Gianluca, io ti voglio dire che tu forse non lo sai, però su questa emittente esiste pure una radio che fa musica dalla mattina alla sera. Sì, 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 me la spiegherai. Ci stanno dei conduttori, conduttrici che fanno dei programmi veramente meravigliosi, alla quale ci sta un amico bambolina, è nato che si chiama Marco, Mario, che io saluto. Poi ci sta un'altra bella signorina che sta qua negli studi stasera, che si chiama? Tilde, e poi ci sta pure Marianna, Montella, poi chi c'è ancora? Gaetano, Ida Rendano, manda un bacio. Per cui fanno musica napoletana, le tue canzoni sono molto richieste, per cui loro ti mandano i saluti. Spero di poter, siccome sono stato erudito e non ho spiegato che c'è questa radio, io spero di poterci essere quando sarete in onda e di venirvi a trovare mentre lavorate, perché l'ho promesso a Mariano di venire a dare un'occhiata agli studi, non abbiamo potuto vederli stasera. Ti posso dire che è una bella struttura e fanno dei programmi veramente meravigliosi e sono tutti seguiti. Il programma più seguito è quello che faccio Mizzone con la radio. Difatti io l'altro giorno ho chiamato Bambolina perché veramente è una persona bella, stupenda, poi ci sta la baronessa. Tra l'altro, se noi si chiamiamo Bambolina. Eccola lì, a Duchessa, a Duchessa, che fa delle domande veramente meravigliosi e mi ha chiesto di te, e mi ha fatto una domanda. Hai chiesto di mia Duchessa? Sì, aspetta un attimo, ora te la faccio fare a te perché me l'ha chiesto a me, io stavo dicendo, ma scusi, che ne sacci? Però mi sono dovuto arrangiare, non ti vuole che vado lì. Allora, la domanda... Sono anche un po' emozionato perché parliamo della nobiltà. Una domanda di Baronessa. Duchessa. Ah, Duchessa, Duchessa. È sempre nobile. Buonasera a tutti, ciao Gianluca. Buonasera a Duchessa. Fra l'artista Franco Moreno chiamò in trasmissione e appunto io chiesi di te. E gli chiesi del perché sei un attimino scomparso, ti sei un attimino dileguato, nonostante sei stato sempre un cantante all'apice. Non si sente? Sì, sì, sì. Nonostante sei stato sempre un cantante all'apice e ancora tutt'oggi le tue canzoni hanno fatto la storia, sono richieste, questo appunto chiedevo a lui. No, io, la domanda è veramente, come dire, acuta e arguta. Io non è che mi sono glissato, io purtroppo sono fatto in un determinato, modo, se non ho niente da dire, non dico niente. Cioè, i social network, qualcuno dei presenti, è presentissimo, scusate il gioco di parole, sulla mia fanpage. Io non riesco a essere, se si va a cattoprociut, metta a fotografia, ho pa' internet, non ce la faccio, non è un fatto mio. No, 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 ma non, attenzione, non è una critica e non è un attacco a nessuno, è solo che ognuno si comporta a modo proprio. Io se non ho qualcosa da dire artisticamente, non dico niente. E soprattutto, adesso che stiamo ultimando il video, preferisco non fare questi conti alla rovescia che ho fatto per anni, perché non ci truamo mai alla fine con i conti. E quindi, quando sarà pronto, mi vedrete di nuovo in giro, perché avrò da dire quello che più amo dire, ossia, dirlo con la musica. Quindi è per questo che, un attimino... Quindi allora questo tuo relegarti, un attimino metterti da parte, è una questione di prelibatezza. No, sarei presuntuoso, tu che se dicesse una cosa di questo. Io penso questo. Se lo pensa lei, le do di lei perché il blasone lo impune, però se lo pensa lei ne sono contento. Io non posso dire assolutamente di essere prelibato, io sono ghi, come mi ha fatto male. Comunque sei un grande, complimenti. Grazie, grazie.